Artis è il miglior alleato per ogni tipo di tubazioni e apparecchiature idrauliche per impianti civili ed industriali. Visita il sito www.mistertube.it oppure segui la pagina Facebook Artis SRL. Un punto è nulla più sul campo del fanalino di coda puteolana. Un brodino che allunga l'agonia di una classifica che resta delicata. Non basta la poca valenza dell'avversario, non basta il vantaggio di Garofalo, non basta la trazione anteriore. La Nocerina non riesce a vincere e questo è il verdetto più amaro. Con la zona play-out distanti appena due punti urge una sterzata per dare un cambio di passo ad una stagione che potrebbe compromettersi in modo inaspettato e clamoroso. La società è chiamata ad intervenire altrimenti si rischia grosso. La gara, Zavetti ripresenta subito la trazione anteriore con Balde, Talamo, Minci che scarincella contemporaneamente in campo. Il calcio però è soprattutto equilibrio e tanti calciatori offensivi non sono sinonimo di gol. Tanto è vero che il primo tempo scorre via senza emozioni, l'unico sussulto in pieno recupero quando Garofalo disegna una parabola su punizione che porta avanti la Nocerina. Ad inizio ripresa Balde fallisce il raddoppio. Sembra strada in discesa per i Molossi ma al 64esimo per questo contatto Stago Saber con l'arbitro assegna il rigore. Fra le proteste di Zavetti e di espulso nell'occasione. Dal dischetto esposito pareggia. La Nocerina non ha la forza per reagire pur tuttavia Talamo da ottima posizione non approfitta di un disimpegno errato di Varchetta. È l'ultimo atto di un derby che poco aggiunge alla deficitaria classifica dei rossoneri.